ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario pet mode intestinal informazioni commerciali titolare prosole spa concessionario prosole spa confezioni pet mode intestinal polvere per gatti 50 g formulazione lieviti inattivati lievito di birra farina di carruba 25 per cento lieviti inattivati i care lievito idrolizzato da clui vero mici sfragilis 16,6 per cento destrosio inulina da radici di cicoria 10 per cento arabino galattano da corteccia di larice 1,66 per cento prodotti del lievito pet muda marchio registrato nucleoti di 5 fosfato cloruro di sodio cloruro di potassio sale di sodio dell'acido citrico citrato di sodio sale di potassio dell'acido citrico citrato di potassio additivi additivi nutrizionali olivo elementi 3b 603 zinco ossido 4000 mg barra chilogrammi zinco 3.212 mg barra chilogrammi additivi zootecnici stabilizzatori della flora intestinale 4b 1707 interococcus fae cum di sm 10 16.663 cim 10.415 3 5 10 5 10 ufc barra chilogrammi additivi tecnologici 1 m 558 i bentonite 16.000 mg barra chilogrammi e 551 bisilice colloidale componenti analitici proteina grezza 22 per cento fibra grezza 5,1 per cento grassi grezzi 6,3 per cento ceneri grezze 6,2 per cento umidità 5,7 per cento indicazioni mangime complementare in polvere appetibile per gatti formulato con farina di carruba lievito idrolizzato i care inulina da radici di cicoria zinco ossido bentonite e stabilizzatore della flora intestinale enterococcus fae cum per il normale benessere intestinale posologia somministrare miscelato nel cibo gradito un misurino corrisponde a 500 mg completare la reazione giornaliera con l'alimento abituale in caso di maggior fabbisogno è possibile raddoppiare la razione giornaliera consigliata lasciare sempre acqua fresca a disposizione peso del gatto fino a 5 kg razione consigliata due misurini peso del gatto oltre 5 kg razione consigliata tre misurini fonte codi fa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato